Musica Eravamo curiosi di vedere l'evoluzione artistica di Gianluca Petrella che è stato al Torino Jazz Festival del 2013 e che questa sera torna con Cosmic Renaissance. Musica 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 Questa band nasce nel 2007, esattamente 15 anni fa, è partita con l'intento di omaggiare uno dei più grandi personaggi della storia del jazz sperimentale, che è San Ra. Ma inevitabilmente nel corso degli anni la band si è evoluta e ha intrapreso un discorso molto personale, fatto di musica originale scritta da sottoscritto, scusate il gioco di parole, e quindi dopo 15 anni insomma ci troviamo qui a inaugurare il Torino Jazz Festival. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.